Il portiere dei monti più bruttini, intanto corre, che destra per Tiganini, Pagliuca centralmente, vede lo spicco di porta, fa partire il sinistro ed è ancora legno come settimana scorsa. Douglas Nicky, forse è trattenuto, c'è la trattenuta, evidente, giocata veloce, Pagliuca! Fa bruciare il sintetico delle palle, palla fuori. Vedo la terza marcatura anche Ferretti, forte! Pallone che passa, Bucati, i monti, i bruttini, dopo i gol in campionato che sono due, e quello in Coppa contro il Frosinone si sblocca anche nella Coppa di Lega 1-0. Sta trovando un discreto feeling con Colli in questo 2023, Pagliuca! Pagliuca, palo gol! Stavolta la fortuna va dal numero 7, dopo il palo all'inizio, dopo il palo di settimana scorsa, alla fine trova la rete per il 2-0. Guidi, però a paleggere contro i due uomini, bello insomma, bella la via in grande stile. Prova anche a calciare da lontanissimo, alla verre, in palermo Frosinone, non con gli stessi effetti però. Krasnichi, che vede la porta, 2-4, sta arrivando a sinistra, per Ticarini! Ma va direttamente in porta Krasnichi! La butta giù, fa 3-0, mamma mia che gol! Pagliuca, Krasnichi, 1-2, chiuso, Pagliuca! Ricky graffia e mette ancora in angolo. Artistico, Mirino sulla porta, forte! Ricky, si guadagna la pagnotta, la mette su. Per Ferretti, vediamo se vede uno spicchio di porta e calcia. La sposta sul sinistro, l'intenzione è quella! Traversa e gol, doppietta di Ferretti. Il palone è sbattuto oltre la linea della porta, 4-0 e doppietta del capitano. Proietti, parte lui col destro, non perfetto Ricchi. 5-0 per la Pisana, si scrive alla lista dei marcatori, anche il giovane Proietti. 5-0. Pagliuca, Montitti, Bottini è tutti in avanti, infatti può correre Pagliuca, 3-3. Petticarini a destra, Artistico a sinistra, va dal 10, che incrocia! Non prende ancora la porta, la portiere, può correre Guidi, 2-2, insieme a Varanese. Finta di Guidi, non tira, tira adesso! Pallone che va vicinissimo al palo, vicinissimo al gol della bandiera. Mercoledì 22 febbraio, Artistico, riceve, se la alza, non lo presta nessuno. Vediamo se va anche in bello stile, per la Cilena, la Rivaldo! Gli fanno fare quello che vuole e lui fa quello che vuole. 6-0, in maglia, la Pisana, è tornato, Mario Artistico. E gli regalano anche il pallone, vediamo se va per la doppietta. Ci prova! In meno di un minuto, trova la doppietta, Mario Artistico, che fa 3 gol in maglia della Pisana, fa 7-0. Guidi, Bocchetti, 1-2, prova a calciare, palo! Neanche fortunati Montiti Burtini. Artistico, bello, mette in azione anche Krasnicki. Resiste alla carica, Krasnicki. Aria di rigore, Krasnicki. Non la passa nessuno e fa bene, perché mette dentro l'8-0. E qui arriva lo stop di Arseni. La Pisana vince 8-0. Accede ai sedicesimi di finale di questa Coppa di Lega. Prossimi impegni, la Pisana Campus Air. Settimana prossima che riprendrà il campionato. Bayer-Monteporzio-Montiti Burtini. Grazie da Federico Violini.